Diciamo che abbiamo i risultati delle votazioni dei circoli, il percorso congressuale si comporterà sabato 13 a Varese, al Collegio De Filippi, dove praticamente il congresso provinciale a questo punto dovrebbe ratificare la mia nomina a segretario provinciale, quindi bisogna ancora aspettare per avere l'investitura ufficiale. Beh, qualche malumore c'è stato, io penso che cercheremo di superare questi malumori coinvolgendo il più possibile i circoli nell'attività del partito e soprattutto facendo vedere che il partito lavora e lavora per gli iscritti, lavora per il Paese. La proposta è ovviamente quella di coinvolgere maggiormente i circoli nella vita del partito, essere presenti sul territorio in modo costante, affrontare i problemi del territorio e trovare insieme ai circoli delle soluzioni migliori e poi ovviamente contare sul fatto che a livello nazionale si sia in grado di proporre delle soluzioni ai tanti problemi che il nostro Paese ha, soluzioni che devono essere concrete e soprattutto spendibili sul territorio a vantaggio dei cittadini.